Sei stanco della tua vita monotone di non guadagnare nulla al lavoro? Vedi questi? Sono 2000 euro! Appena guadagnati ci ho messo solo 10 minuti, scrivimi in DM e ti svelo come fare. Ciao, sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio aiutarvi a capire come riconoscere se una persona che sta vendendo un corso oppure una consulenza è affidabile o meno, ma soprattutto un fuffaguru e anche un truffatore o no. Come capita sempre su contenuti di questo genere arriva un sacco di gente nuova, quindi ricordo a tutti i non iscritti al canale di iscriversi e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti che faccio uscire ogni giorno che parlano di come comprare, vendere, guadagnare e risparmiare online. Purtroppo io parlando sui social di come vendere e guadagnare online sono proprio in pieno target fuffaguru nel senso che quando guardate un mio contenuto online probabilmente prima, dopo o durante avrete visto delle pubblicità con dubbi personaggi che vi propongono business di un sacco di K al mese per aiutarvi a svoltare la vostra vita, ma poi in realtà la vita la svoltano loro intascando un sacco di soldi e basta. Qual è però qua il problema? è premunirsi e capire quando una persona è affidabile o meno, perché poi lo vedo anche quando chiedete consulenze a me, mi mettete 2000 paletti, mi fate mille domande, perché siete stati magari fregati da qualcuno che vi ha spillato dei soldi senza poi darvi assolutamente nulla. O peggio ancora, purtroppo mi è capitato proprio di recente, una consulenza pagata solo ed esclusivamente per chiedere come faccio a tirarmi fuori dai casini, un fuffaguru mi ha raggirato e mi ha fatto fare questo, questo e quest'altro? Sei stanco della tua vita monotone di non guadagnare nulla al lavoro? Vedi questi? Sono 2000 euro! Appena guadagnati ci ho messo solo 10 minuti, scrivimi in DM e ti svelo come fare. Questo banalmente è come potrebbe iniziare una pubblicità, anche se dopo vi spiegherò anche altre varianti che utilizzano forse perché si stanno un po' stancando tutti, beh ci dovrebbe essere una bella piscina alle mie spalle oppure i grattacieli di Dubai, però il concetto che voglio farvi passare oggi non è dirvi occhio perché X e Y sono sicuramente dei fuffaguru o peggio ancora dei truffatori. No, quello lo lascio a chi fa le max inchieste come ad esempio il Cerbero Podcast oppure Germano Milite con Fufflix. In questo video vorrei darvi gli strumenti giusti che io stesso utilizzo per capire se effettivamente dietro a un personaggio può esserci un fuffaguru se utilizza determinate tecniche. Ma soprattutto voglio anche sfatare il mito che non sempre dietro a un corso oppure una consulenza c'è sempre e per forza uno scam. Può darsi che questo video sarà un po' inutile perché comunque continuerete a mandarmi messaggi in privato anche dopo aver visto questo video, soprattutto dopo aver visto questo video chiedendomi consigli su se quello lì è un truffatore, se mi sta scammando, se fa così, se fa cosà oppure sotto il video mi lascerete commenti. Ma secondo te lui com'è e l'altro com'è? Però vi chiedo guardate il video fino alla fine per capirlo a fondo e soprattutto condividere non costa assolutamente nulla ma più persone potrebbero essere informate sull'argomento e questo è sempre un bene. Vorrei partire intanto da un concetto base ovvero chi sono i fuffaguru? Nel 2023 in Italia i fuffaguru così chiamati per l'appunto da noi secondo me sono persone che non hanno le capacità e le abilità di darvi effettivamente quello che promettono oppure che fanno vedere nei loro canali social. Al giorno d'oggi purtroppo la fuffa è dietro l'angolo. C'è nel dropshipping, nel trading, nelle criptovalute, nell'intelligenza artificiale poi non ne parliamo, nei corsi di seduzione, vendite online, fitness sui metodi per studiare e tanto tanto altro. In generale però quello che li accomuna tutti è che loro ce l'hanno fatta mentre voi no. Ad esempio se vi vogliono vendere un corso sul dropshipping loro sono diventati ricchi col dropshipping e voi no? Che non fai? Non ci provi? Oppure io sono diventato il mago a studiare in 3 secondi 27.000 libri e che fai? Tu non ci riesci? O magari io sono il super mitico fitness, guarda qua sono palestrato, tu vuoi i miei consigli? In soli due mesi ti farò perdere la pancetta e sarai ultra definito? Insomma prendono delle debolezze delle persone, si approfittano di un momento di debolezza meglio delle persone e di conseguenza voi siete entrati in quel funnel e cercheranno di portarvi a casa come proprio risultato praticamente perché voi penserete se ce l'ha fatta lui perché non dovrei farcela io? Chiarito però il concetto di chi potrebbe essere un fuffaguru bisogna capire anche come riconoscerlo. Come vi ho anticipato prima vi spiegherò come io capisco se qualcuno vuole vendermi fuffa perché spoiler mi formo anche io tutti hanno bisogno di formazione eventualmente e di essere aggiornati sulla propria materia quindi per evitare di incappare in qualcuno che vuole solo vendermi della fuffa come faccio? Ve lo faccio vedere con alcuni suggerimenti che non solo uno di questi potrà essere ah se fa quello vuol dire che assolutamente un fuffaguru no bisognerà metterli tutti insieme e valutare molto bene la situazione. Direi di partire dalla ricchezza e dallo sfarzo che sicuramente non manca mai all'inizio vi ho fatto vedere quella simpatica pubblicità che ho improvvisato così al momento ecco quella potrebbe essere una cosa che io quando la vedo schippo subito come se vedo gente che mi fa vedere l'orologio la macchina di lusso oppure che se ne sta in piscina tutto il giorno ma nel frattempo lavora e tutte queste cose qua insomma ostentazione della propria vita per far vedere che lui ce l'ha fatta e voi no io quando vedo una pubblicità del genere di qualcuno che vuole vendere qualcosa che magari mi interessa anche no a priori io schippo quando è quello è proprio palese che ci sia qualcosa che non va perché per me non è un modo buono di fare pubblicità abbinato al primo punto c'è poi sicuramente la promessa di risultati infattibili avete visto io sventolavo i soldi vi ho detto 2000 euro in 10 minuti che può essere una cosa assurda se ci pensate 2000 euro in 10 minuti ma vi promettono anche 10 o 20 k al mese poi magari si moderano un po dicendo no vabbè quelle cose sono un po troppo infattibili caliamo facciamo 3 4 5 mila euro al mese che magari la persona comune lo vede un po più come fattibile quindi ci crede di più ma è bello che potete guadagnare tutta sta roba comodamente seduti sul divano chi c'ha voglia di lavorare logicamente questo esempio vale per tutto nel senso ognuno poi lo cercherà nel proprio ambito ma un palestrato che vi dice vi faccio diventare come me che magari sono dieci anni che fa palestra in solo un mese è logico che non è fattibile non dovete neanche mettere in dubbio che non sia fattibile io palestra la faccio so che cosa vuol dire capisco che una persona le prime armi oppure disperata perché vuole perdere peso potrebbe cadere in una trappola del genere oppure chi vuole studiare anche lì vi faccio studiare non 20.000 pagine magari un libro al giorno è più fattibile sì ma è comunque una cosa che magari non ha senso di esistere bisogna cercare professionisti seri in tal senso poi vabbè tralasciamo perché ci sono anche quelli fantastici che iniziano queste pubblicità senza sforzo e senza lusso però li inseriamo comunque qua in mezzo perché cosa dicono non fidatevi di quei fuffaguro che vi dicono che guadagnerete un sacco di soldi al mese credi a me perché solo io conosco la vera verità ma in realtà poi alla fine è tutta una pubblicità inversa per diciamo sputtanare gli altri e portare i clienti a sé ma alla fine fanno anche loro la stessa cosa altro punto che è collegato sempre a quelli di prima purtroppo spesso e volentieri gettano fango sulle persone che possiamo definire normali che poi obiettivamente che cos'è la normalità assolutamente nulla ognuno è normale a proprio modo però in questo caso loro cercano sempre di denigrare chi è meno di loro la gente comune normale vedete io sono più perché magari sono ricco magari sono col fisico bello magari sono quello che ha ottenuto questi mila mila risultati tutti fake eccetera eccetera loro sono sempre un gradino sopra voi come ho detto prima loro sono sempre sopra e voi siete sempre sotto volete arrivare sopra come sono io beh allora devi e consulenza e corso una cosa e quell'altra ma la gente che fa così poi vi tratta da schifo anche quando vuole vendervi il corso oppure la consulenza mi avete fatto leggere certe chat che sono veramente imbarazzanti se un personaggio supera tutti i punti che vi ho detto fino ad ora in genere solo lì che vado ad agire sul quarto punto ovvero cerco informazioni reali su questo formatore la ricerca delle informazioni capisco che non sia semplice da fare perché magari in giro ci sono tantissime informazioni ma tutte discordanti quindi quali capire qual è quella affidabile oppure no capisco che non sia facile ma cerchiamo di dare un due paletti per districarsi meglio logicamente se qualcuno vuole insegnare a fare dei soldi ad esempio e poi gira con la banda fa la spesa all'euro spin vive in uno scantinato e dalla visura camerale non guadagna un soldo è semplice capire che non è affidabile oppure se vuole farvi diventare super mega sportivi con la tartaruga in 20 giorni e poi visivamente in sovrappeso c'è qualcosa che non va quindi quelli ovviamente sono campanelli d'allarme ma come riconoscere poi tutto il resto delle informazioni specialmente voglio puntarmi sulle famose testimonianze ci si potrà affidare questo purtroppo non è un tema fatto facile da affrontare perché capite che se le recensioni sono tutte positive tutte video testimonianze ma si trovano puntualmente sul sito di chi vuole proporre qualcosa beh e lì è facile se arriva una recensione negativa non la metto oppure non c'è neanche lo spazio per le recensioni negative perché sono io che metto le testimonianze che magari i miei studenti fanno all'inizio oppure ho pagato io qualcuno per farlo e chi lo può sapere nessuno come anche magari un trust pilot ad esempio bombardato di recensioni negative perché quel personaggio non mi sta simpatico quindi butto lì e lo scredito non è affatto facile trovarsi in questo mondo a dover capire se qualcosa è vero o finto ma anche solo sui giornali le contestate giornalistiche spesso si fanno pagare per fare degli articoli e di conseguenza non sono genuini se sono stati fatti proprio per accreditare una persona che in realtà è fuffa ce lo ricordiamo tutti mirco scarcella in generale quindi il mio consiglio è che quando si analizza qualche fonte innanzitutto analizzarla molto bene se è chiedere pareri su portali specializzati dove c'è gente imparziale che quindi risponderà sì io ho realmente provato questo corso guarda ti faccio vedere che l'ho fatto mi son trovato bene per questo quest'altro motivo oppure cercare di trovare le informazioni magari della stessa persona contattarle in privato e chiedere ciao ma alla fine hai fatto il corso come si ti sei trovato magari poi si scopre che ah no guarda ho fatto solo la testimonianza sono stato dentro due mesi non sono riuscito a far niente me ne sono andato da sto gruppo quindi tutto può accadere ma soprattutto ricordatevi mente lucida non guarda che figo questo corso mi farà diventare super ricco lo acquisto subito no aspetto ci penso valuto ne ho veramente bisogno è veramente affidabile e solo dopo allora valuto se acquistare il quinto punto su cui io credo molto è la trasparenza e la genuinità dei contenuti che si possono trovare gratuiti online di questa persona ormai tutti quelli che ripeto anche vogliono vendere prodotti e servizi seri si fanno pubblicità online con contenuti gratuiti ecco pensiamo ai contenuti gratuiti che danno hanno effettivamente un valore o sono live di ore e ore con dashboard sbandierate senza un perché senza un per come soprattutto quando danno dei contenuti gratuiti è fuffa buttata al vento cioè ti leggo qualcosa che non ha alcun senso oppure sono esperienze personali di lavoro effettivi casi studio e quant'altro perché qua fa tutta la differenza io da una persona che non è affidabile già nei contenuti gratuiti che offre beh non do neanche fiducia per un corso a pagamento perché probabilmente è la stessa fuffa che vedo gratis invece una persona affidabile nei contenuti gratuiti che da probabilmente sarà anche affidabile in qualcosa a pagamento anzi è un valore aggiunto tornando quindi all'inizio chiunque offre un corso oppure una consulenza è un fuffa guru assolutamente no ci sono professionisti validissimi come dico sempre e come vi ho anche detto in questo video vendere corsi e consulenze non vuol dire truffare la gente o vendere fuffa ci sono un sacco di persone validissime che si fanno pubblicità sui social con i propri contenuti gratis e poi a pagamento offrono servizi altrettanto validi giorgio taverniti ad esempio è un imprenditore che quando con la sua azienda offre corsi o giornate formative io ci metto la mano sul fuoco che quelle giornate e quei corsi sono più che validi perché lui la riconosco come una persona seria ed affidabile nel suo settore andrea cirale è un altro professionista che organizza corsi fa consulenze ne ha fatto uno da poco con raffaele gaito che è una bomba e anche per lui ci metto la mano sul fuoco che quello che offre è valido perché è studiato è serio l'ho conosciuto di persona ho visto come si atteggia e non rispecchia per nulla tutti i paletti che abbiamo visto fino ad ora alessandro deconcini per citare qualcuno che di studio se ne intende è un altro professionista che con la sua azienda offre corsi legati allo studio e non solo ma lo si riconosce che è un grande professionista e non è un fuffa guru marcello scania ad esempio col suo corso più la mentorship che ad esempio è a numero chiuso è un altro professionista valido del suo settore riconosciuto anche come tale io non ho mai preso il suo corso ma ho visto i suoi studenti quello che hanno fatto ed imparato sono sicuramente ottime basi per iniziare proseguire una strada su youtube ve ne potrei fare altre millie di esempi ma non avrebbe senso perché sarebbe un video pieno di esempi di professionisti seri però avete capito il concetto da che cosa ho riconosciuto che queste persone sono affidabili andando a riprendere i punti precedenti io da loro non ho mai sentito una volta che vi faranno imparare tutto quello che c'è sulla seo a soli 19 euro in 10 minuti oppure vi faranno diventare il numero uno su youtube per soli 499 euro in 20 giorni o magari vi insegneranno a studiare le famose 20.000 pagine in un giorno solo e vi faranno passare tutti gli esami del mondo se acquisterete il loro corso assolutamente no sono persone serie che non fanno finte promesse li avete mai visti ostentare ricchezza in dubai supercar orologi sventolare soldi in giro assolutamente no nonostante conosca di persona qualcuno di loro e volendo se lo potrebbero anche permettere a livello generale però una cosa che ho sempre detto anch'io per me stesso e posso consigliare a voi è ho il tempo per informarmi su qualcosa ma non ho soldi da spendere in un corso allora cerco delle risorse gratuite che mi permettano di affrontare meglio l'argomento che voglio intraprendere oppure formarmi di più sull'argomento che già conosco ho i soldi e non ho il tempo per potermi informare su un dato argomento allora li spendo con saggezza da qualcuno che mi possa dare quel qualcosa in più oltre la risorsa gratuita che posso trovare online e comunque a livello generale non avendo tempo da dedicare a trovare le risorse gratuite lo spendo però nel trovare un professionista serio che mi dia una mano seriamente in ultimo però vorrei chiarire un concetto c'è una differenza tra fuffaguru e truffatore alle volte purtroppo ho assistito dei commenti poco piacevoli sotto video che parlavano anche non per forza di personaggi dubbiosi ma di truffe o scam che possono esserci su subito facebook e quant'altro che il commento recitava pressappoco così se c'è cascato è giusto e vabbè affari suoi la prossima volta impara un po tipo vanna marchi style perché i coglioni vanno in culatica secondo me però questo è un concetto un po sbagliato perché nessuno è immune tutti possiamo affrontare un momento di difficoltà o sovra pensiero facciamo qualcosa che agli occhi di qualcun altro più lucido di noi dice ma cosa stai facendo è palese che è una fregatura quindi tutte queste persone qua andrebbero aiutate a capire come evitare una data cosa non criticarle perché criticare basta serve proprio assolutamente a niente tornando alla nostra differenza infatti il fuffaguru può anche vendervi un corso a 997 euro che poi dentro in realtà è una scatola vuota perché è pieno di consigli che potete trovare gratuitamente online e che non si applicano per niente al vostro caso e che se poi cercate di fare praticamente non vi portano al risultato che lui ha promesso oppure si vi dà una serie di consigli che però magari sono stati copiati da un altro fuffaguru passo passo avevate giusto comprato quel corso a 19 euro di quella persona mentre lui è probato a fare marketing e l'ha rivenduto a 997 euro quindi ci rimanete male vi accorgete dello scam quindi vi ha venduto qualcosa che alla fine purtroppo non vale il prezzo pagato il truffatore invece cerca magari di tirarvi dentro uno schema ponzi oppure cerca di farvi fare degli investimenti rendita passive poi scappa col malloppo magari vi fa investire in criptovalute per poi sparire con tutti i soldi di base infatti non è illegale ma poi qua ci si potrebbe fare un discorso intero solo su questo quindi dipende tutto anche da come viene fatto vendere qualcosa ad un prezzo che in realtà non è quello che vale l'informazione data perché non c'è una tabella per le informazioni questa vale di più o vale di meno dipende tutto da come poi è stato strutturato il messaggio che ha attirato il cliente a fare quell'acquisto però di base non può essere considerata tutta come una truffa al massimo una fuffa era quella la differenza che volevo farvi capire seguendo però i paletti che vi ho detto fino ad ora spero di essere stato chiaro in questo caso si può capire che cosa evitare che cosa no in ultimissimo vi rubo ancora pochi istanti per parlarvi di una categoria nuova di fuffaguru che si sta interfacciando in modo molto più subdolo alla gente perché sfrutta i personaggi famosi per arrivare a persone che fanno parte quindi di altre community sta arrivando in italia in modo molto prepotente e quindi è bene capire a che cosa stare in guardia purtroppo ho ascoltato e visto tantissime inchieste su cose un po strane che stanno succedendo in quest'ultimo periodo ovvero dei personaggi famosi come potrebbe essere un cantante un attore oppure uno streamer comunque qualcuno famoso che ha una grossa fan base che si ritrova a fare delle pubblicità specialmente riguardo alla finanza trading criptovalute e quant'altro in quel caso tirando dentro la sua community a progetti letteralmente molto fuffosi anche le pubblicità le vedete sanno un po di cringe e tutto ciò non ad insaputa di questo personaggio famoso ma a quanto pare consci di quello che stanno facendo per carità e poi magari non si rendono conto che la persona che stanno sponsorizzando è effettivamente un fuffarolo però a me fa molto strano nel senso un personaggio così in vista avrà bene un manager dietro che vaglierà prima le proposte e quindi non capisco come mai ci sia questa voglia di trattare questi temi di finanza con persone visibilmente inesperte sull'argomento e di conseguenza far delle pubblicità che toccano un po il cringe però allo stesso tempo gli utenti le potrebbero appunto ritenere affidabili perché chi è che sta parlando sta parlando la persona famosa che seguo da tanto tempo e a cui do affidabilità non è una persona non so mettiamo spuntata fuori dal nulla che non conosco no è una persona affidabile quindi trasmette fiducia e allo stesso tempo ma sì posso entrare in questo progetto per diventare ricco se lo dice lui vuol dire che è vero in questo caso cercate su google le informazioni riguardanti il progetto di cui stanno parlando oppure iscrivetevi a gruppi facebook che parlano di questo come ad esempio fu flix seguite germano sulla propria pagina o anche il cerbero podcast che stanno facendo ottimi interventi su questo guardate se ne hanno parlato loro come ne hanno parlato oltretutto se entrate ad esempio sul gruppo fu flix di facebook e cercate sulla lente di ingrandimento magari trovate proprio il nome di quel progetto di quel personaggio e capite se può essere fake oppure no se altre persone hanno avuto esperienze brutte o belle anche in tal senso perché poi potrebbe anche essere che scoprite la persona e pensavate che fosse un fuffaguro in realtà è più che affidabile oppure cercate comunque a livello generale di informarvi prima ancora di fare qualsiasi tipo di progetto anche se l'ha effettivamente sponsorizzato una persona famosa video lunghissimo grazie a tutti quelli che sono arrivati fino a qui spero di avervi intrattenuto allo stesso tempo informato su quello che tutto il mondo della truffa e dei fuffaguro e mi auguro anche di aver fatto qualcosa di utile mi raccomando condividete il video con più persone possibili